Una serata conviviale ma soprattutto anche l'occasione per fare il punto della situazione sul progetto Uffizi Diffusi. Il Rotary Club Mugello ha invitato il direttore delle gallerie degli uffizi alla serata del Rotary Club del Mugello a Bagno a Ripoli. Non lontano da qui c'era la mostra al Castagno di Andrea quest'estate con enorme successo. Ci sono più di 2.100 persone che hanno visto il quadro di Andrea del Castagno rappresentando Dante Alighieri dopo il restauro. E qui nel Mugello dove esiste già una rete museale e un gruppo di comunità che collaborano insieme. che è quindi una terra molto fertile e noi siamo pronti, noi siamo al lavoro in questo momento e quindi anche per Mugello sicuramente una grande opportunità a partire l'anno prossimo di far parte anche del progetto degli Uffizi Diffusi.